Patrice, nonostante il coronavirus e il blocco di tutte le attività, anche quelle di volontariato, la Lilt ha continuato la sua attività? Sì, purtroppo anche noi come tutte le altre attività abbiamo subito il lockdown, quindi abbiamo immediatamente chiuso il nostro poliambulatorio, però da subito ci siamo messi in moto per dare dei servizi ai pazienti oncologici che si sono trovati ad affrontare non solo il problema della loro malattia, ma anche il fatto di essere immunodepressi e quindi maggiormente esposti al rischio del coronavirus. Cosa avete messo in campo in questo periodo, chiaramente usando la via del web, di internet? Sì, ci siamo mossi su due fronti. A livello nazionale sono stati attivati dei numeri verdi. Il primo SOS Lilt che è tuttora attivo, che è l'8998877, proprio per i pazienti oncologici, è al quale risponde una task force di massimi esperti di tumori e di patologie oncologiche. Il secondo numero verde è l'Ilt per te, 8662492 e anche qui c'è un gruppo di esperti che però aiutano le persone per quanto riguarda problematiche legate a corretti stili di vita, perché purtroppo in questi due mesi di fermo c'è stato un significativo aumento anche delle problematiche relative all'obesità e alla sana alimentazione. Quindi anche chiamando questo numero verde ci sono questi esperti che possono dare consigli. Noi come sezione provinciale di Crotone ci siamo attivati invece dalla nostra pagina web, dove hanno dato la loro disponibilità a supportare pazienti oncologici e anche non oncologici attraverso la messaggistica di Facebook. Si sono messe a disposizione la nutrizionista della LITRA, dottoressa Michela Zizza e la psicologa Tonia Colella che è membro del nostro direttivo. Il rapporto con gli studenti è continuato ad andare avanti, magari in videoconferenza come si fa per le lezioni e per la didattica a distanza? La sezione provinciale di Crotone è attiva con due progetti di ricerca scientifica finanziati dal bando 5x1000, progettati dalla nostra sezione che è anche capofila e che vedono coinvolte sezioni di altre regioni italiane che hanno preso il via nel mese di settembre. Il primo è l'Ilt Community Project, un progetto volto al benessere globale degli studenti delle scuole medie sulla sana alimentazione, benessere psicofisico e movimento che si è tenuto presso l'Istituto Compressivo Alchimeone. Il secondo progetto invece è l'Eat Smoking Free School contro il tabagismo rivolto alle scuole superiori e la scuola di riferimento quest'anno per questa prima annualità è stato l'Istituto Tecnico Nautico. Naturalmente come si sono chiuse le scuole abbiamo subito concordato con i referenti territoriali delle scuole individuate e abbiamo continuato l'attività anche noi con la didattica a distanza. Anche questo è stato un gesto non solo per non lasciare a metà questi progetti che avevamo intrapreso ma anche un modo per stare più vicino agli studenti e alle loro famiglie in questo momento così difficile.